Una comunità sotto sciocche e due giovani vite spezzate, una tragedia che ha scosso il comune cilentano di Roccadaspide nel Salernitano, che questa mattina si è risvegliato apprendendo della tragica morte di due suoi figli, Vincenzo Pepe e Pasquale D'Agosto, 18 anni il primo e 19 il secondo. I giovanissimi sono morti sul colpo ieri sera, poco prima della mezzanotte, in un drammatico incidente stradale sulla statale 166 degli Alburni, tra Eboli e Roccadaspide. Da una prima ricostruzione dello schianto, pare che la lancia Ypsilon con a bordo i due ragazzi sia finita nella corsia opposta, andandosi a scontrare frontalmente con una BMW Berlina, al suo interno una coppia di medici, marito e moglie ricoverati in ospedale a Battipaglia. Sul posto i soccorsi, vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere delle auto e i carabinieri di Agropoli che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Presente anche il sindaco di Roccadaspide, Gabriele Iuliano. Vincenzo era un figlio di un idraulico Pasquale e di un collaboratore scolastico, entrambi molto conosciuti nella zona. Il comune ha fatto sapere che nel giorno dell'eseque sarà dichiarato il lutto cittadino a Roccadaspide. Per il primo cittadino erano due ragazzi d'oro, ben voluti da tutti. Non ci sono più parole, ha detto la fascia tricolore. La procura di Salerno ha aperto un'inchiesta sul caso. I corpi di Vincenzo e Pasquale si trovano ora nell'obitorio dell'ospedale di Eboli. Nelle prossime ore verrà stabilito se sarà disposta o meno l'autopsia.